Riffondata sulla bellezza, perché la nostra terra nasce, è nata, è frutto di una stratificazione continua per secoli e secoli di persone che hanno lavorato, si sono date da fare, hanno fatto un passo per creare bellezza. È difficile tradurre la parola bellezza in inglese, non è beauty, è qualcosa di più, che fa parte del DNA di questo paese. In realtà appartiene agli esseri umani, è quel momento in cui trasformi qualcosa di semplice in qualcosa che ti dà delle emozioni. Crei emozioni, è il patrimonio, l'immenso patrimonio materiale e immateriale di cui siamo circondati. Questo teatro è figlio del lavoro di tutti gli artisti, di chi ha lavorato sui gessi, sulle opere d'arte, sulle pitture, quanti teatri ci sono in Italia e questo palco, quanta arte c'è su questo palco. E questo è un punto di una comunità. La bellezza è quel processo in cui diventi orgoglioso di quello che sei, diventi parte di un processo che coinvolge gli altri, perché non riesci a essere parte di una condivisione del patrimonio da solo, è impossibile. ma entri anche in una complessità di meccanismi che purtroppo un pochino noi abbiamo dimenticato, perché come bambini viziati ci godiamo quello che abbiamo ereditato e ci dimentichiamo troppo spesso che bisogna darsi da fare. Il programma che conduco si chiama Generazione Bellezza, non solo per la generation dell'età, ma proprio per il termine di create, di creare, generare qualcosa. Generazione, la bellezza genera azione perché ti spinge ad agire, l'azione genera bellezza. Devi muoverti, devi fare qualcosa, non puoi stare solo lì a godertela, perché finisce. Ed è quello che succede in moltissimi dei nostri territori. Allora, quando parliamo di imprenditorialità, di imprese sociali, di impatto sociale, culturale, economico e ambientale, parliamo di comunità e dei loro territori che li abitano, dentro a una complessità. C'è tutto dentro qui. C'è tutto dentro qui. C'è agricoltura, archeologia, artigianato, egonogastronomia, industria, saper fare il saper fare. Ci sono dentro, c'è la salute, c'è il benessere. Stiamo scoprendo man mano quanto la bellezza delle opere d'arte nei musei produce distruzione, distrugge il cortisolo, l'ormone dello stress, che apre la strada a tumori, ictus, infarti. Stiamo scoprendo come nutrirci di bellezza ci fa vivere più a lungo e meglio. È un'economia della complessità. E quindi, ecco perché siamo qua, anche, per diventare imprenditori di questa armonia, per diventare delle persone che trovano il proprio spazio dentro a una visione. Quindi, intanto il primo processo è capire la visione, sentirsi, rendersi conto, avere consapevolezza di essere dentro a una visione grande, grande, grande. E l'altro passaggio è capire chi noi siamo. Io farei a chiunque di noi la domanda, quando è che ho deciso di essere la persona che sono? C'è stato un momento esatto, un momento esatto, in cui mi sono fatto la domanda, chi voglio essere? Perché è fondamentale? Perché magari ci porta quello che c'è il padre, l'ambiente, il paese, dove sei, ti porta a essere qualcosa, qualcuno, no? Ma poi tu è davvero quello che vuoi essere? Te lo sei fatta questa domanda a un certo punto della tua vita? E se ti sei risposto che non era esattamente, non era andata come volevi, hai deciso di cambiare? Perché in un'epoca della singularity, dove tutto cambia, dove il progresso tecnologico è talmente veloce per cui stiamo perdendo nel controllo, allora se non ci sono più neanche tanti lavori nel futuro, se non sappiamo quali professioni ci saranno davvero, non ne abbiamo la certezza, beh allora forse conviene fidarsi dell'unica certezza che abbiamo dall'inizio alla fine, che è quella persona che vediamo davanti allo specchio ogni mattina. e quindi la frase un po' retorica, credi nei tuoi sogni, diventa la più saggia, la più pragmatica possibile che esista, perché fai un trust su te stesso, che è l'unica cosa che non cambierà, anzi cambierà, ma non perché lo dicono gli altri, o quantomeno ridurrai la dimensione del cambiamento per gli altri e proverai a farlo per te stesso. Quindi, tutte queste belle parole, poi come si traducono in realtà? Si traducono nell'imprenditorialità dei territori, ed è una delle professioni di cui, o dei modelli, o delle best practices che sentirete parlare bene domani, perché i processi che si stanno attuando oggi per valorizzare quello che abbiamo incominciano ad essere presi in mano dalle comunità. Cosa vuol dire, in realtà, comunità? È tutto e niente, no? Comunità cos'è? Una comunità di dieci persone in una città di centomila abitanti, conta poco. Una comunità di cento persone in un paesino di duecento, forse addirittura eccessiva, forse finta. Comunità è quel momento in cui si aggregano persone diverse, che hanno obiettivi, scopi nella vita, caratteristiche, personalità completamente diverse, ma alla fine una cosa hanno in comune. Vivono in quel posto, scelgono di viverlo. È la loro terra perché ci sono nati o perché l'hanno scelta? O perché ci sono tornati? Perché hanno fatto quel passaggio in cui ci si ribella all'obbligo di andartene via perché non hai possibilità. Non hai possibilità, è vero. Quanti ragazzi dal sud della nostra Italia, dal sud della nostra Europa, dal sud del nostro mondo, si sono mossi per cercare delle altre possibilità. A volte nelle ragioni, in certe nazioni, il nord e il sud è uguale, si inverte. Però, come idea. Allora, si è dovuti andare via. Questo è quello che è successo, per esempio, e ne sentirete parlare, ve ne parlerà con molta precisione, molta puntualità, domani Viviana Rizzuto, a Sciacca, in Sicilia. Così Casalini porta dalle tante parole alla cosa concreta. Perché poi, sì, ma concretamente tutto questo discorso cosa significa? Significa prendersi la responsabilità di fare le cose e di farlo insieme agli altri. Che è complicatissimo. È quella complessità. Perché ha a che fare, non è più solo un management con dei dipendenti che decidi, scegli i vari step e mandi via chi ti pare. No, lì devi fare un dialogare con chiunque ogni giorno. E allora, Sciacca, in un momento di difficoltà, il paese, semplicemente, siamo nel sud della Sicilia, in una terra di turismo, che andava male, che va non così bene come turismo, e si decide di valorizzare quello che c'è. Cosa c'è? C'è l'artigianato della ceramica, c'è il corallo, c'è un carnevale, c'è il cibo, c'è il gambero, c'è le leggende, ci sono le grotte, ci sono i beni comuni, ci sono delle chiese chiuse, che sono abbandonate, sono tante cose che sembrano dimenticate e questo lo potete replicare esattamente in qualsiasi posto. Prendete dove siete nati, dove siete cresciuti, dove siete voluti, dove siete andati a vivere e vedete quanto c'è di nascosto. Ogni volta che facciamo la capitale nazionale della cultura, gli abitanti vengono fuori, caspita, ma io non pensavo che Brescia fosse così bella, che è la capitale nazionale. Ma ci ho sempre vissuto, non me ne ero mai reso conto. Eh, perché arriva qualcuno che te ne fa appoggio allo sguardo e tu ti rendi conto di quante cose belle c'erano. A Sciacca è successo questo. Delle persone si sono messe insieme per valorizzare quello che avevano. Già, ce l'avevano davanti. E hanno però scelto una forma un po' strana, un po' particolare, quella di uno strumento giuridico della cooperativa di comunità. che è uno strumento che sta crescendo sempre di più, che permette cosa? Di fare un'impresa, impresa, siamo nell'ambiente giusto, senza scopo di lucro, no profit, ma partecipata dalla comunità. E attenzione, che sembra facile la parola, ma in realtà iniziano, c'è un clash immediatamente tra due mondi. Quello degli imprenditori, no? Quello che per esempio è rappresentato nella cooperativa di comunità di Sciacca dai, da quelli delle strutture ricettive, dagli imprenditori reali, è il mondo dei volontari. Allora, questi sono mondi che abbiamo qua. Questi due mondi che iniziano ad andare, a mettersi insieme. Iniziano a dire, siamo tutti parte, scolnesse, di uno stesso organismo. E quindi, dov'è la borsa con quel gomitolo? Impariamo a riconnettere i fili. Non dobbiamo inventarceli. Impariamo a riconnettere i fili. Ci sono. Siamo semplicemente sconnessi. In Italia, in Europa, in quanti paesi? L'agricoltore non parla con l'archeologo. Il turismo non parla con la cultura. Il turismo dice che noia la cultura. Il mondo della cultura dice che brutti, quelli del turismo, i soldi, che schifo. Imprenditori. Figurati, imprenditori sociali, ma che senso ha? No, tutto questo ha impatto culturale, perché una comunità si prende cura del proprio patrimonio e diventa orgogliosa di quello che è. Ha un impatto sociale, perché si creano nuove relazioni tra le persone. quando un artigiano porta la sua opera dentro a un B&B non è solo un prodotto, è una relazione. Relazioni, c'era scritto. è un impatto economico perché si genera economia e domani vedrete quanta economia si genera e si genera in che impatto ambientale perché ovviamente quando ti prendi cura del tuo territorio, gli vuoi bene, lo rispetti, inizi a essere, lo ami. Questo è un esempio concreto, ma ce ne sono tanti. Io faccio questo, ho questa doppia vita, no? Progettista culturale, per esempio, a Sciacca, racconto la bellezza, ma non la bellezza, racconto le storie delle persone che hanno creduto in un sogno, quello di prima, e l'hanno trasformato in realtà. E gli hanno tutti, gli hanno detto all'inizio, è impossibile, è impossibile. Anche i ragazzi di oggi, no? Di stamattina? È impossibile. Bene, ce l'hanno fatta tutti. C'è un ragazzo che ha cambiato il concetto di agricoltura, ha detto venite a raccogliere i miei tulipani, i miei girasoli, le mie zucche, e invece di guadagnare 3.000 euro per un campo con 3.000 euro di spese, oggi ne guadagna 30.000 e lavorano in tanti. E i ragazzi che stanno sui campi diventano abbastanza, accoglitori invece che raccoglitori. Questo è un problema da tradurre, perché c'è un gioco di parole in italiano. C'è un pastore che ha creato un teatro, un teatro di Andromeda, perché è il suo sogno. E oggi 50.000 persone vanno lì e creano indotto sulla comunità. C'è una comunità in cima ai Monti Dauni che ha trasformato il bosco in un luogo dove fare attività di avventura, dove fare passeggiate per ragazzi malati di autismo o di Alzheimer. E hanno creato delle bubble room gestite dalla comunità. E il borgo è rinato. È uno dei pochi borghi in Italia dove non si va più via, ma si torna. Sono le storie di chi ha creato un labirinto o di chi ha preso un pezzo di montagna e ha creato un bike park valorizzando una parte remota dell'Appennino o ha creato dei percorsi, dei cammini, ma li ha fatti bene. Non basta mettere due o tre etichette per dire questo è un cammino e vai da quella parte. No, mi ci vuole cura. Abbiamo perso la cura. E tutta questa è imprenditoria che impatta, è imprenditoria reale, che ha un impatto fortissimo sui territori. Quei territori da cui si va via, quei territori in cui non ci si crede più perché non hai possibilità. E invece c'è qualcuno che torna e ti dice no, guarda che c'è possibilità, ci sono. E se torniamo di più, ce ne sono ancora di più. E allora torniamo alla domanda iniziale. Chi sono io? Cosa voglio fare della mia vita? Perché non posso scommettere in pieno su quello in cui credo, su quello che mi piace anche fare? E magari cambia pure. Perché non è mica detto che sia sempre la stessa cosa. Quindi, tutti noi che siamo qua siamo persone in trasformazione. Siamo dentro un processo, quel processo di complessità che abbiamo visto. E quando tu inizi a essere consapevole del valore di quello che hai intorno a te, come fai a rimanere fermo? Ma anche semplicemente perché ti spingi a farlo. Poco fa parlavo con una persona che parlerà domani che ha cambiato un pezzo della Costituzione italiana. E se il primo pensiero, prima di pensarlo, Mauro Berruto, che domani sarà con voi, prima di pensarlo, la sera ha detto, ma sì, vabbè, ciao. Figurati. E poi magari ci ha creduto. E è una delle persone che ha seguito i suoi sogni. ne ha fatti tanti altri lui, però questo è uno. Ci sono, in questo nostro spazio di tempo che abbiamo, della vita intendo, uno spazio fisico da riconnettere. L'Italia è piena di un patrimonio archeologico che non sappiamo raccontare. Siamo pieni di musei dove, escluse alcuni buoni esempi, il resto dei musei c'è una piccola etichetta, un label, che ha scritto dove la maggior parte di noi non capisce niente, perché è una dittatura di un piccolo monipolo di sacerdoti della cultura elitaria che ha deciso che quella roba lì non deve essere raccontata. E allora arrivo all'ultima parte che fa parte proprio del mio lavoro quotidiano che è lo storytelling, la narrazione. La narrazione significa la condivisione di un'idea, di un'emozione, di un valore, di una storia, di un insegnamento. Ma arriendo al passato, significa pensare che l'economia, per esempio, del turismo può essere buona o cattiva, così come il selfie, può distruggere una città, un luogo o può portare un'economia sana, salvifica. È una cetta, no? La cetta può tagliare del legno o mazzare una persona, è semplice, dipende dall'uso che ne fai. E allora noi siamo di fronte anche a una scelta, perché in quei territori, in tutti questi territori, è davvero la cosa di cui noi parliamo, per esempio, e parlerete anche molti esempi, i 5-6 esempi, per esempio domani, sono applicabili davvero in gran parte del mondo. Perché c'è sempre questo gap tra il potenziale e il reale. Dove l'hanno realizzato, dove l'hanno trasformato in qualcosa di buono, funziona. Perché allora non siamo più dei semplici albergatori, imprenditori, siamo delle persone che accolgono, che trasformano il nostro patrimonio in condivisione. E quando arriva una persona, ognuno ha i turisti che si merita. Se tu offri poco, chi vuoi che venga? Se tu offri te stesso tutto quello che hai e impari ad avere cura, la cura, anche nell'accoglienza. Se impari a metterti in gioco, se impari a fare un passo dietro e a voltarti, fare il controcampo, vedere con gli altri occhi che poi quando andiamo noi in giro ci piace essere coloro che sono accolti bene. Poi ce lo dimentichiamo quando dobbiamo accogliere gli altri. E questo vale in tutti i sensi. Allora, se fai il controcampo, come nel film Io Capitano, tutto diventa diverso. Diventi attore della tua storia. Allora dobbiamo fare un piccolo controcampo anche della nostra esistenza. E diventare imprenditori di quella armonia, imprenditori di quel sistema complesso, di quell'approccio sistemico che ci permette di mescolarci agli altri senza perderci e di trovare quel piccolissimo tassello di un mosaico che è una tessera che però appena la togli cambia tutto. Perché se c'è un sorriso in un volto, in un mosaico e togli una tessera quel sorriso spadisce e tutto il mosaico finisce. Perché facciamo tutto questo? Perché cercare il nostro posto? Primo perché ce n'è bisogno. E quando uno dice ma io non so cosa fare o non ho neanche un lavoro che mi soddista, bene, c'è un bisogno incredibile di persone che imparino a gestire come dei manager di comunità, imparino a, ci insegnino e ci aiutino a gestire i territori ma soprattutto a connettere le persone per creare dei sistemi che funzionano, che devono essere verificati per capire se c'è un impatto reale, sociale, culturale, economico e ambientale. Un impatto perché significa cambiamento, significa trasformare la nostra vita è un pochino anche quella degli altri così come quella degli altri trasforma la nostra in un percorso in cui noi siamo finalmente al centro ma non per essere autoreferenziali ma per essere finalmente davvero funzionali agli altri perché abbiamo capito noi cosa siamo e anche quegli altri cosa sono e tutto questo per un semplice motivo per essere felici. Grazie a tutti.